se ti metti ci puoi attaccare l'acqua? sempre in emergenza continua H24 in emergenza e comunque ogni volta si mettono a zero adesso fommi una rezza in faccia e ti arriva uno scragnone sulla testa ascolta giacca su qua ho proprio le macchine che non è un bel 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 le macchine? le macchine nere tu fai anche video grazie Mario silenzio silenzio è per i posteri sei un bel vedere così ma che è bello ma che presente che sei ma vabbè riparato bene adesso togliti dei coglioni queste scarpe e non parlo un bar